Musica Benvenuti a una nuova edizione LTG oristanese, in primo piano la cronaca. Incidente nella mattinata all'incrocio tra via Renzo Cherchi e via Renato Marrucco a Oristano. A causa di una mancata precedenza, due autovetture si sono scontrate causando due feriti che sono stati trasportati al San Martino con l'ambulanza del 118. Voltiamo pagina. Sembra ormai scritto il destino dell'oncoematologia del San Martino d'Oristano. Anche in regione dicono no alle associazioni per salvare l'importante reparto. Vediamo. Per quanto riguarda l'oncoematologia in Sardegna, i centri specializzati sono quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro e se si dovesse attivare anche una struttura a Oristano occorrerebbe modificare la distribuzione dei posti letto contenuta nella rete ospedaliera approvata a suo tempo dal Consiglio regionale. E' quanto è scaturito durante l'audizione tra la Commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus e il direttore generale dell'assessorato della sanità Marcello Tidore. In termini più semplici, spiegano da Adiconsum Sardegna, ciò significa che la struttura di oncoematologia di Oristano deve immediatamente porre termine alle proprie attività, lasciando privi di assistenza sanitaria ai 350 pazienti attualmente in terapia e le migliaia di persone che annualmente vengono seguite dall'ambulatorio. L'audizione non ha dunque sortito gli effetti sperati, dando invece parere negativo alle tre proposte che le associazioni avevano avanzato nel corso della conferenza stampa del 10 febbraio a Oristano. Il direttore dell'assessorato alla sanità, infatti, continua di Consum, non solo parla di una necessaria riconversione di posti letto, assolutamente non dovuta, considerato che esistono già due posti letto nel nosocomio oristanese, ma afferma che per la paziente che attualmente necessita delle cure innovative non sussista alcuna emergenza e che possa pertanto recarsi nel capoluogo. Inoltre, il direttore generale ha ribadito che la struttura di oncoematologia di Oristano non esiste e che di fatto non è legittimata a operare, dunque chi vi opera lo fa illegittimamente e illegalmente, a proprio rischio e pericolo. La domanda adesso concludono da Adiconsum e se i cittadini della provincia di Oristano, assieme ai loro rappresentanti politici del territorio, possano accettare questa decisione. Sanità oristanese in ginucchio. Intervenga immediatamente il Ministro della Salute Roberto Speranza. Vediamo. Giungono sul tavolo del Governo italiano i problemi della sanità oristanese. A chiedere l'intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza, il consigliere regionale oristanese Alessandro Solina, se il consigliere regionale di Liberi e Uguali è Eugenio Lai. Al centro delle preoccupazioni dei due consiglieri, vi è l'emergenza cure nel reparto di oncoematologia dell'ospedale oristanese, che ha recentemente ricevuto il diniego da parte dell'assessorato regionale della sanità alla prescrizione e somministrazione di farmaci salvavita per la cura delle malattie oncoematologiche. Una problematica che sta preoccupando seriamente i pazienti in cura ad Oristano, che, se la chiusura verrà confermata, saranno costretti a intraprendere dei veri e propri viaggi della speranza per poter proseguire la terapia, hanno dichiarato i due consiglieri. Il disagio, naturalmente, riguarda tutti i pazienti. Questa situazione, già gravissima di per sé, è resa ulteriormente inaccettabile, se sommata all'inerzia dell'assessore regionale alla sanità Niedu, il quale ieri non si è nemmeno presentato in Commissione Sanità, dove era stato invitato a discutere di questa problematica, hanno continuato Lai e Solinas. L'assessore ha mandato il suo direttore generale, che si è limitato a esprimersi in difesa dell'agire dell'assessorato. Noi siamo invece convinti che, di fronte a questo mix di inerzia, inefficienza e lentezza burocratica, sia necessario l'intervento del Ministero, mediante il quale auspicchiamo di poter giungere a una risoluzione della problematica nel più breve tempo possibile. Hanno concluso Solinas e Lai. Cambiamo argomento. L'assessore regionale all'agricoltura, Gabriella Murgia, propone la creazione di un nuovo ente sardo per la pastorizia. Vediamo. L'assessore regionale dell'agricoltura, Gabriella Murgia, ha presentato ieri al tavolo del latte Ovi Caprino la proposta di legge che prevede l'istituzione dell'ente sardo per la pastorizia. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei pastori, delle organizzazioni agricole, degli industriali e del credito. In accordo con il presidente Solinas, ha sottolineato l'assessore Murgia, abbiamo deciso di dedicare una struttura della regione alla programmazione e allo sviluppo della pastorizia per tutelare e potenziare la competitività delle imprese e del comparto con specifiche azioni di sostegno. L'ente sardo per la pastorizia, ha detto l'esponente della giunta Solinas, sarà dotato di risorse umane e finanziarie già esistenti all'interno del sistema regione e opererà nell'ambito delle norme comunitarie in materia assumendo competenze che attualmente sono distribuite in diverse strutture, diventando così unico e specialistico punto di riferimento del nostro comparto Ovi Caprino. Per quanto riguarda l'accordo firmato il 9 marzo dell'anno scorso nella prefettura di Sassari, che prevedeva che nel novembre del 2019 venisse calcolato il conguaglio sulla base dei prezzi medi ponderati del pecorino romano della Borsa di Milano per il periodo novembre 2018-ottobre 2019, ha spiegato l'assessore, ancora non è possibile calcolare la media ponderata necessaria per effettuare il conteggio del conguaglio. Ma è tanta la delusione di chi ha partecipato al tavolo convocato dall'assessore Murgia. Quella presentata infatti, dicono i rappresentanti del settore agricolo, è una proposta senza fondamento. Sentiamo il servizio. Il tavolo convocato dall'assessore Gabriella Murgia per fare il punto sugli accordi firmati un anno fa in prefettura a Sassari si è rivelato una perdita di tempo e ha confermato che la regione è profondamente lontana dalle difficoltà che vivono le aziende agricole sarde, lo affermano i rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori. Davanti a una situazione oggettivamente in stallo da un anno e a una prospettiva catastrofica che vede delinearsi sullo sfondo della finanziaria regionale un taglio di 12 milioni di euro sui fondi destinati all'agricoltura isolana, la regione è stata capace di proporre solo l'ennesimo spot pubblicitario, annunciando la nascita di un ente sardo per la pastorizia, dicono. Nella pratica si vuole costituire una nuova struttura che assorbirà risorse per la gestione, che avrà un nuovo presidente e un nuovo direttore generale, niente di più che un ritorno al passato, affermano sfiduciati. La CIA è sicura che in realtà la regione non abbia alcuna proposta concreta in grado di dare sicurezza e prospettive a questo comparto. I nostri problemi vengono trattati con leggerezza, accusano i rappresentanti CIA, convinti che in regione manchi la consapevolezza sulla necessità di costruire un percorso di innovazione che dovrebbe coinvolgere la ricerca e le aziende ovine della Sardegna, per migliorare la capacità produttiva e la qualità. Un esempio è la necessità di sviluppare la tracciabilità dei prodotti e sostenere l'obbligatorietà dell'entrata in funzione del registro telematico, che obbligherebbe tutti a registrare il latte prodotto, il latte conferito in entrata e quello trasformato in uscita. Lo scenario è preoccupante e concludono, soprattutto, alla luce della finanziaria regionale, che se dovesse essere realizzata darebbe al comparto il colpo di grazia. Gli oltre 100 trasportatori e artigiani sardi sono ancora bloccati in Corsica per lo stop dei collegamenti navali con la Sardegna da parte della compagnia Mobi. L'assessore regionale dei trasporti, Giorgio Todde, ha inviato una nuova lettera di difida alla Mobi, minacciando di rescindere il contratto con la regione. Secondo i dati Istat, sono poche le certezze riguardo il futuro della regione sarda. Vediamo. I dati dell'ultimo rapporto economico dell'Istat sono impietosi quando analizzano il tessuto produttivo della Sardegna ed in particolare quello del Mezzogiorno dell'Isola, l'area sconfinata delle regioni geografiche che circondano quella metropolitana di Cagliari. Questa si salva spuntando un reddito medio pro capite di oltre 25 mila euro, considerato che quello nazionale è a quota 25 mila. A Cagliari pesa infatti la presenza di una burocrazia estesa e ben retribuita e una rete di servizi che fanno cassa. Nell'entroterra il vuoto. L'Istat stima un reddito medio pro capite sotto i 13 mila euro per abitante. Oristano, dal canto suo, si colloca i vertici per quanto riguarda il reddito proveniente dal comparto agricolo che anche in termini pro capite supera Reggio Emilia, Cremona e Modena. Ancora una volta a produrre un volano diverso sono le aziende agricole trainate dal comparto lattiero a caseario. Un trend e risultati che andrebbero meglio ponderati dalla classe politica chiamata a comportarsi con atti conseguenti. Passiamo ad un altro argomento. Al comune di Oristano sono rinviati gli incontri per trovare la stabilità. Vediamo. Questa volta ad Oristano solo in parte i sardisti sono causa dei propri mali e il loro crescere repentino in termini di consiglieri comunali nei possibili alleati di centro-destra ha creato più di uno scompenso. usciti senza rappresentanti dalle elezioni comunali del giugno 2017 per avere ottenuto 235 voti e poco meno dell'1,5% in percentuale strada facendo si sono ritrovati con tre consiglieri in aula conseguenza dello sparigliamento avvenuto nel gruppo di Forza Italia al quale appartiene il sindaco in carica. Ma tutto andava per il meglio considerato che in giunta i sardisti erano rappresentanti dall'assessore all'urbanistica Gianfranco Sedda un incarico delicato e di prestigio. Lasciato fuori nel recente rimpasto è delega che il sindaco Andrea Luzzo ha mantenuto per sé. È stato l'elemento di rottura con la parte principale dei quattro mori rappresentati dal portavoce Giovanni Magia componente nella quale si ritrovano i tre consiglieri comunali Gigi Mureddu, Danilo Azzeni e Marinella Canoppia tutti contrari al ricambio di Sedda nell'esecutivo. Ma nel partito sardo che nella sua storia in termini di conflittualità interna non si è mai fatto mancare nulla da una situazione al limite della scomparsa politica si è passati ad un balzo in avanti di tesserati che ad Oristano hanno consentito l'apertura di tre sezioni cittadine benedette dal portavoce Giovanni Magia e non gradite da altra componente. Nel comune intanto parziale condizione di staticità e anche la riunione di capigruppo convocata per stabilire l'ordine dei lavori dell'Assemblea Civica non ha trovato le intese necessarie e tutto è rinviato magari a dopo la sartiglia. 150 euro di multa per entrambe le squadre e sette squalifiche ma ad ascoltare di più è sicuramente quella dell'allenatore della Tarros Maurizio Nulchis. Amaro risveglio per le squadre di calcio che la scorsa settimana si sono affrontate sul campo ristanese finendo in rissa la Tarros e il Capoterra. Il giudice di gioco ha decretato infatti che fino al 15 giugno Nulchis non potrà più allenare la squadra oristanese. Per San Valentino continua la campagna Questo non è amore della Polizia di Stato. Vediamo. Se ti ricatta non è amore Se ti isola, umilia, offende non è amore Se ti perseguita con mail e sms ossessivi non è amore Se ti uccide non è amore Oggi, 14 febbraio, in occasione di San Valentino si è svolta presso il centro commerciale Porta Nuova a Oristano la campagna di sensibilizzazione denominata Questo non è amore che rientra nell'insieme delle attività permanenti della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Sul posto era presente del personale esperto con relativi camper e stand mobili allestiti per la circostanza che oltre a fornire informazioni ha distribuito dei volantini esplicativi con i numeri della Polizia di Stato dei servizi sociali del Comune di Oristano e delle associazioni di volontariato del territorio da contattare in caso di necessità. Il servizio della Polizia di Stato ha la funzione di dare l'opportunità alle vittime ma anche a chi è al corrente di situazioni di malessere o disagio che riguardano conoscenti o familiari di parlare con dei professionisti anche solo per un consiglio. Nuova vita per un giovane esemplare maschio di Muflone che dopo essere stato attaccato da cali randaggi e soccorso un mese fa da una pattuglia del corpo forestale di Seneche oggi è stato liberato nel complesso forestale di Cura Durendu a Tempio Pausania. Prosegue la rassegna incontri con autore dell'associazione culturale Libri Amoci che domani 15 febbraio alle ore 17 nella sede della piazza Asuni a Cablas espriterà la scrittrice cagliaritana Giovanna Ucchedu per la presentazione del suo libro d'esordio domani ancora ingresso e libero. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo che potete contattarci sulla nostra pagina Facebook o sull'indirizzo redazione chiocciolasupertvoristano.it Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti.